Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Niki The Farmer Ragazzi, oggi vi aggiornerò un po' su tutti i miei animali Ovviamente ve ne parlerò un po' e poi farò un altro video Oggi pomeriggio, appunto, che ve li faccio vedere fisicamente Adesso ve ne parlerò un po' Allora, partiamo da un argomento che volevo parlare Innanzitutto Abbiamo risolto il problema della volpe perché abbiamo chiuso tutto Sia sotto, sia sopra, sia laterale Quindi siamo sicuri che predatori non ne possano più entrare Abbiamo scoperto che il coniglio collaborava anche un po' lui A sterminarci qualche gallina perché appunto era un coniglio Anche se non sembrava, abbiamo visto dalla fototrappola Che proprio sì, che proprio il coniglio mordeva le galline E certe dei pulcini sono morti per causa sua E delle galline, ho ritrovato delle galline con dei buchi così per causa sua Quindi il coniglio l'ho tolto e diciamo che poi è scappato perché non l'ho mai più trovato Avevo messo in un recintino però che potesse scappare E poi abbiamo trovato un buco e è scappato Però poi per il pollaio sta andando bene Anche le anatre stanno crescendo a vista d'occhio Molto bene Poi qua a fianco abbiamo il mio pappagallino, anche lui sta bene I miei pesci, diciamo che ci sono stati dei problemi con i miei pesci d'acqua tropicale dolce Perché appunto pesci tropicali d'acqua dolce l'ho trovato con dei problemi Perché mi sono cominciati a morire a stecca uno dopo l'altro E il problema credo che sia stato Siano stati i problemi di batteri Che probabilmente si sono formati O per qualche altro pesce che l'ha infettati Oppure un batterio che magari non so se è formato nell'acquario E me l'ha ammazzati uno dietro l'altro Adesso di pesci tropicali d'acqua dolce me ne restano due Dai quali uno scalare maschio Che il problema è che è senza femmina quindi non potrà accoppiarsi Una lumacchina pulitrice che è l'unica che mi è rimasta Perché poi i due pesci pulitori mi sono morti E poi anche un pesciolino blu che non so la razza Perché me l'hanno regalati però non mi hanno detto come si chiamava Che razza era? E sinceramente non la so riconoscere perché è una razza che io non allevo molto Non ne ho mai avute negli acquari C'hanno avuto uno che era quello giallo Però anche quello me l'avevano regalato E quindi non mi ha detto la razza E quindi non so che razza sia Ho provato a cercare su internet ma non esce Di sicuro è una razza semplice Perché dal prezzo non è una razza particolare Però non è facile da capire come si chiama Da un anno che faccio la ricerca per capire come si chiama questo pesce ma non l'ho mai trovato Comunque ci siamo capiti quel pesciolino giallo, quei tentacolini Io avevo preso il maschio, lei il maschio è sopravvissuto La femmina invece con la gialla non ce l'ha fatta Per questo probabilmente batterio Diciamo che me ne sono restati due pesci e una lumachina Invece di pesci rossi tutto molto bene Se non che ho fatto un acquisto in più di pesce rosso Ne ho comprato un altro Non per la mia boccia perché è già piena Quelli nella mia boccia sono i oranda E poi ne ho comprato una vaschetta molto grossa E lì ci ho messo un pesciolino classico pesce rosso E diciamo che sono stato molto contento di prenderlo Perché comunque fa piacere avercelo così in camera Un pesciolino così rosso Certo che quando crescerà lo metterò nel laghetto L'ho messo solamente nella vaschetta perché l'ho voluto prendere Perché era un po' particolare Ho detto vabbè dai prendiamolo L'ho messo in questa vaschetta che è comunque grossa perché l'ho comprata Comunque da un po' me la sono fatta consigliare Era la più grossa che c'era E poi ci ho comprato l'allestimento Ovvio quando cresce poi lo metto nel laghetto Che direi che è ottimo Poi invece vi aggiorno sul mio terrario E ho buone notizie da darvi Allora i miei due coleotteri stanno benissimo Il terzo che avevo comprato Non ce l'ha fatta Non sapevate neanche che l'avevo comprato Perché non avevo fatto un video su che avevo comprato un nuovo coleotero Però diciamo si l'avevo comprato Era una femmina Ma mi è morta Purtroppo Non so come mai L'ho trovata secchita E mi sono restati due maschi Poi ieri ero lì a casa tranquillo Sento fuori dalla finestra proprio Un ronzio fortissimo così Esco e trovo uno scarabio rinoceronte Bellissimo Femmina Perché le femmine hanno il corno più piccolo I maschi più grosso E c'era piccolissimo E bella grossa era E l'ho appunto presa E l'ho messa nel mio terrario E ho visto un po' i comportamenti Come si comportava Era bene Non si litigava con i coleotteri Allora ho deciso di tenerla E adesso è qua nel mio terrario E sono molto felice D'averla trovata Anche perché sinceramente Mi sarebbe piaciuto Come numero 3 Scarabio Comunque con le otteri dentro Perché comunque Solo pacnod assinuata Non mi sembrava giusto Adesso ho il pacnod assinuata E lo scaradorino ceronte Che come razza Per adesso va d'accordo Comunque sono stati un po' a vederli Come si comportavano Che non si litigassero E tutto è andato bene Mi sono procurato Un nuovo spruzzino Non fate caso al colore Perché Ne avevo comprato uno blu Ma Diciamo che si è rotto Quindi Allora Ora ho anche questo spruzzino Appunto perché è molto importante Che Per non disidratarli I coleotteri In questo caso Anche lo scarabio rinoceronte Va andate Tre spruzzate di numero Per non appunto Disidratarli Io da mangiare Li do Ai miei coleotteri Mela E poi Quando mi capita Li do anche Un po' di banana Un po' di carota Un po' così Però Quella che li do Come alimentazione Loro sono sempre di mela Mangiano sempre mela Ecco Soprattutto Li do quelle belle rosse Belle mature Che mi piacciono tantissimo Io le divido in spicchi Poi Gli le lavo un po' Per appunto Darci un po' d'acqua Così non si Non si Appunto Non si Non gli va a mancare Neanche l'acqua E poi Appunto Non vanno ad avere Problemi Di disidratazione E per questo ragazzi Può essere tutto Iscrivetevi al canale Lasciate un bel like Al video E ciao a tutti ragazzi Ciao